Che succede là fuori, Donnie? Non lo so. Ma non la vedo bene. Prepariamoci! Ti facci all'opera? Il pulsante! Quale? Ce ne sono milioni! Andiamo! Che cosa siete? Supereroi? Siamo quattro fratelli che odiano i bulli. E amano questa città. No, lo sapete che poi finite col farvi male. Come ti chiami? Casey Jones. Ciao. Domandina. Voi due state insieme o...? Ho un lavoretto da proporvi. Potrebbe interessarci anche a me. Adesso ci divertiamo! Ragazzi, riportiamo di moda la cresta? Bella mossa! Ti credi divertente, eh? Dove sono le tartarughe? Se le cose si mettono male, servono le tartarughe! Dove sono le tartarughe? Dove sono le tartarughe? OK. Dove sono le tartare? Dove sono le tartarughe? Dove sono le tartarughe! Truste oändriest! Non c'è lo stallere. D'acquitare le tante, rendita a l'argh! Grazie a tutti.